Gravi incidenti in Nuova Caledonia, territorio d'oltremare francese nel sud del Pacifico. Da lunedì i cittadini della Nuova Caledonia protestano contro una riforma costituzionale al vaglio nell'Assemblea Nazionale a Parigi a più di 16.000 km di distanza. La riforma intende allargare la platea dei cittadini francesi con diritto al voto in quella regione, il che è stato percepito dalla popolazione locale come un tentativo colonialista di restringere i loro diritti. Il ministro dell'interno francese ha confermato che negli incidenti ci sono già almeno quattro morti e che i feriti sono centinaia. Macron ha chiesto di proclamare lo stato di emergenza, ma i patrioti della Nuova Caledonia, per lo più nativi Kanak, continuano la loro lotta. I francesi sono già stati cacciati dal Mali e dal Niger. Sarà la Nuova Caledonia la prossima umiliazione per un sempre più piccolo e delirante Micron? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!